Salta per l'indignazione che poterà Dobbiamo trasformare l'indignazione in energia positiva, liberare questa città, unirla, basta vedere Napoli circondata dai fuochi, dalla spazzatura che brucia, dalla diossina, dalla rassegnazione, dall'amianto, dalla mancate bonifiche, dai soldi che si mettono nelle tasche, nelle cricche Noi siamo fra coloro che la voteranno perché a me sta la sua faccia, sicuramente Il popolo si demore Ciao, buonasera Bocca all'occia Stava a Piazza del Gesù, c'è un blindato militare, ma Napoli è una città di pace, sopra sta scritto No War, No Guerra, immagini surreali, Napoli circondata dai fuochi della spazzatura, diossina, emergenza ambientale Ma Napoli vuole resistere, vuole continuare a essere la più bella città del mondo, una città di pace, una città solidale, una città che vuole essere più uguale, una città che si deve liberare dalla spazzatura in mezzo alla strada e anche da una spazzatura politica che ha devastato in questi anni questa città Salda, 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 salda per l'indignazione, perché la vera cosa è nella partecipazione Ascolta